Allora raga, io non so come dirvelo ma credetemi ve lo dico in tutta sincerità. Intanto ciao a tutti, benvenuti sul canale, iscrivetevi al canale, like al video eccetera eccetera. Allora in tutta sincerità, io anche se fossi un tifoso dell'Inter ne avrei pieni coglioni perché pur meritando di vincere, pur meritando la seconda stella di cartone, pur meritando lo scudetto, in ogni partita il fatto che siamo, che sono, adesso mi sto immedesimando un po' troppo, il fatto che sono sempre avvantaggiati, sempre avvantaggiati con questi errori macroscopici, cioè io se fossi un tifoso dell'Inter mi sentirei veramente a disagio, mi darebbe molto ma molto fastidio. Ovviamente a noi tifosi di altre squadre dà molto fastidio perché vabbè sono sempre loro quelli a essere aiutati. Però ragazzi veramente, ma anche nei confronti delle altre squadre, del Genoa e di tutte le altre squadre che hanno derubato, non è giusto, non è giusto. Questa classe arbitrale deve essere radiata, devono essere radiati tutti. È inutile sospenderli un mese, sospenderli due mesi che poi addirittura vanno ad arbitrare la Champions League o vanno ad arbitrare da altre parti e quindi non gli hai fatto nessun danno, anzi forse gli hai fatto un piacere. Cioè questa gente qua, una volta che hanno fatto un errore, due errori, tre errori, cioè basta, basta, ti apri una pannetteria, ti apri un fruttivendolo e vai fuori dal cazzo perché non sei in grado di arbitrare. Anche ieri, prendendo l'episodio del rigore contro il Genoa. È assolutamente impossibile non accorgersi che quello non è calcio di rigore. È impossibile. Cioè Barella tira di esterno destro dopo che la palla si allontana dal suo piede, in scivolata arriva il giocatore del Genoa che la butta in fallo laterale. Cioè è veramente scandaloso, ma lo vediamo noi che non sappiamo arbitrare, lo vediamo noi che non siamo arbitri, lo vediamo noi a occhio nudo quasi. Loro hanno il VAR, tre persone al VAR, l'arbitro lo rivedono, lo strarivedono e poi fanno questi errori pazzeschi. Cioè veramente, l'Inter merita di stare primo in classifica, non ha bisogno di questi aiuti e quindi, ripeto, torno all'inizio del video, io se fossi interista, veramente, mi girerebbero le palle come girano le palle quelli che sono vittime di questo sistema arbitrare, scandaloso, vergognoso e anche oltraggioso nei confronti delle squadre che subiscono questo tipo di trattamento. Io non lo so, veramente. Io da anni, da anni che porto avanti, ancora prima ovviamente di avere il canale YouTube, che porto avanti questa lotta contro gli arbitri perché sono arroganti e neanche a ragione veduta. Cioè uno può essere arrogante, anche se arrogante è sempre una cosa brutta, può essere arrogante se tu sei fantastico, sei il numero uno nel tuo lavoro, allora ti poi permette anche di essere arrogante. Ma tu, voi arbitri, siete arroganti senza neanche sapere quello che fate, senza neanche essere all'altezza di quello che siete preposti a fare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, è una roba veramente schifosa. Aiutini poi che vengono dati sempre e solo all'Inter, ovviamente io sono sempre convinto che è un caso, magari l'Inter anziché avere 15 punti di vantaggio probabilmente ne aveva 8, 9, non lo so, avrebbe vinto lo scudetto comunque, però queste cose qua sono quelle che fanno allontanare dal calcio, dallo sport e fanno veramente incazzare i tifosi tutti i giorni, tutte le sante domeniche quando c'è la partita e non va bene ragazzi, non va bene, questa cosa qua non va bene, bisogna porre rimedio. Io non so più come dirlo, ovviamente sono aperto a tutti i vostri commenti, fatemi sapere voi se dico delle puttanate o se dico cose che pensate anche voi. Abbiamo una buona giornata, magari ci sentiamo più tardi o domani, ciao ragazzi!